Discord Probabilmente aveva scritto Porca madonna Che è schifo i francesi Oui oui baguette Ma che è tipo Dove aver sentito questo dio di smr Di una tizia francese sto tipo Mio dio Puoi pure scoparmi il buco del culo Non mi lamento Sì Adesso sto tipo Raga voglio una cazzo di cameriera Francese perché Perché voglio una cameriera francese Così Sono andati i francesi Perché riescono a stupere Qualsiasi lingua che parlano Perché hai mandato L'omino di Among Us